Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo cosa hanno pronosticato i qualificati alla terza fase della puntata numero 10 del club della scommessa. Dovevano pronosticare con un commento 7 partite a testa dei campionati principali come Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Serie A e Serie B con quota non inferiore a 1,45 che giocheranno questo fine settimana da venerdì 29 fino all'1 aprile. Chi non ha commentato il proprio pronostico entro le ore 14 di oggi oppure ha pronosticato una partita già pubblicata da un altro prima di lui sarà automaticamente eliminato e non parteciperà alla seconda fase di questo gioco del club della scommessa numero 10. Ma adesso andiamo a vedere cosa hanno pronosticato i partecipanti ancora in gioco. Il primo partecipante era Cosimo Di Viccaro e ha pronosticato Juventus Empoli 1-2 gol primo tempo che quota 1,49. Poi Barcellona e Spagnol multigol da 3 a 6 a 1,45. Borussia Dortmund Wolfsburg 1 a 1,50. Liverpool Tottenham 1 a 1,60. Lecce Pescara over o gol a 1,50. Sampdoria Milan x o gol a 1,60. Brescia Foggia over o gol a 1,47. Secondo partecipante era Fabio Crudele non ha commentato le proprie partite dunque non si qualifica per la terza fase dunque viene eliminato. L'ultimo a qualificarsi era stato Luigi Cafagna che ha pronosticato Marsiglia-Angers multigol da 2 a 4 a 1,50. Siviglia-Valenza multigol da 2 a 4 a 1,45. Fortuna-Durstendorf-Mongerela-Bac multigol da 2 a 4 a 1,45. Hannover-Shark 04 over o gol a 1,50. Cardiff-Celsea 2 a 1,45. Roma-Napoli 1x a 1,62. E infine Inter-Lazio over o gol a 1,50. Le partite in totale sono 14. Sì, sono 14. E nel caso in cui tutti questi pronostici risulteranno vincenti i due partecipanti riceveranno un lettore mp3. Purtroppo le partite erano poche e non possiamo dare altro. In caso contrario il gioco continuerà solo per coloro che indovineranno tutte le partite che hanno pronosticato. Mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Vi ricordo che ogni mercoledì inizierà sempre un nuovo gioco dove tutti potrete pronosticare una partita e partecipare gratuitamente al nuovo gioco del capo della scommessa. Provate a partecipare al prossimo gioco ed invitate anche i vostri amici. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao!